L'ingegnere Carlo ci troviamo di fronte a una grande riqualificazione di una parte della città, è un'area che sta studiando la Fondazione Pesenti. Di cosa dobbiamo aspettarci? La Fondazione Pesenti è sempre molto legata al territorio bergamasco e conosce molto bene il territorio, la società, le sue istituzioni, quindi ci siamo proposti per sviluppare su questo sedine industriale, ex industriale, un progetto nuovo e innovativo che bene si entri nel territorio e che offre un'opportunità nuova alla città e a tutti i suoi cittadini. Che attività troveranno qui? Ci sarà un po' di tutto, cerchiamo di sviluppare delle strutture che siano moderne e che rispondano alle esigenze nuove dei cittadini di Bergo. Grazie.